Grazie Presidente. Questo subemendamento è stato concordato in una capigruppo dove lei era presente, quindi la maggior parte delle persone presenti è stata concorda nel portare avanti questa iniziativa che porterà la percentuale prevista di occupazione solo pubblico dal 50% nel sito UNESCO e invece che l'80% al 70% fuori del sito UNESCO. Sorprende non poco il parere della sovrintendenza, non tanto per la contrarietà quanto per la motivazione, in quanto la motivazione è che la percentuale appare eccessiva. Noi pensiamo che l'Assemblea Capitolina sia l'organo politico demandato a definire le percentuali, poi ci sono organi tecnici demandati e noi li ascoltiamo spesso e volentieri ai pareri tecnici. Chiusa questa parentesi, riteniamo che questa sia la sintesi migliore per dare la possibilità di occupare il solo pubblico per salvaguardare le attività produttive. Evidentemente tutti quelli che hanno sottoscritto questo emendamento la pensano come noi e noi siamo pronti a votarlo. Grazie.